Di recente in visita da nostra figlia a Parigi ho trovato un bellissimo murales che recitava fin du monde et fin du mois même combat, fine del mondo e fine del mese stessa battaglia. Se vogliamo evitare una fine del mondo troppo precoce dobbiamo combattere molto attivamente il cambiamento climatico e altrettanto una possibile catastrofe nucleare sia essa di origine militare o civile. Se invece vogliamo arrivare meglio alla fine del mese dobbiamo investire nella socialità nel lavoro abolire la precarietà aumentare i salari aumentare le rendite rinforzare l'AVS investire nell'alloggio e soprattutto investire anche nella formazione rinforzare la scuola pubblica come rinforzare nella sanità la sanità pubblica e lì dobbiamo abolire anche il sistema delle casse malati attuali coi premi che salgono sempre di più rimpiazzarlo con una cassa malati unica pubblica e con premi in base al reddito alla sostanza